Ehi, chi ha? Ah, tu, sì? Ah, cosa c'ha? Te l'ho già detto, c'ha la gamba che è portato. Ah, un attimo. Dai, libero, libero, ma in testa. Ma chi ha fatto la fai, la fai, la fai, la fai, la fai, la fai, la fai. Ce l'ho, ma un cirosi, sono qua. No, non ci c'è, la fai, la fai. Non ci c'è, la fai, la fai. Non ci c'è, la fai, la fai, la fai. No, ma quello è quello che c'è. No, perché c'è le barbatini del destino? Tra una settimana, se lo toghi, perché ti metti il terreno, la metà. Ah, è qui con il cerone. Eh, non lo è che si fa passare a capoglio. Non lo si fa passare a capoglio. Eh, faci, la fai, la fai, la fai, la fai. Sì! Eh, allora! No, non ne siete chiesti. No, non ne siete chiesti, siete chiesti, siete chiesti, siete chiesti, siete chiesti. Ci sono oggi, torro, fa. Pss, pssd, api, questo, col cuore che ti farà. Ecco, fa.